L'autista è una passeggiara che cominciano a litigare, l'autobus che sbanda, che cade nel vuoto e il viaggio, che finisce con una serie di funerali. È una storia degna di un noir grottesco che finisce in tragedia, quella raccontata dalle immagini che vedete. 13 persone sono morte domenica in Cina per un incidente stradale a Chongqing. A quanto pare a causare l'alterco e il no dell'autista alla richiesta della donna di fermarsi, così i due si sono azzuffati e l'autobus prima si è scontrato con un'automobile, poi ha rotto il guardrail ed è caduto giù dal ponte che percorreva affinendo nel fiume Yangtze. Il relito del bus è stato recuperato dal fiume solo mercoledì notte. Si cercano due dispersi, ma la polizia è convinta che non ci siano superstiti.